Almeno fino adesso non sono stati posizionati perché, ed è questo l'aspetto che un po' preoccupa, c'è la contemporanea presenza, almeno al momento, del vento e della pioggia. Possono partire le immagini che abbiamo registrato questa mattina alle 11 allo stadio Angelo Massimino in un momento in cui non pioveva perché fino a luna a Catania non ha piovuto. Vedete i teloni non sono posizionati sul campo ma non per incuria. I tecnici del Catania che vedete guidati da Arturo Magni ci hanno provato fino alla notte di ieri, fino a luna e anche da stamattina a partire dalle 5 di questa mattina. Ma il vento forte metteva in pericolo l'incolumità di chi posizionava i teloni e poi chiaramente i teloni non potevano restare posizionati sul campo proprio per il forte vento. Fino a mezz'ora fa abbiamo sentito proprio Arturo Magni, è iniziato a piovere a Catania, è cominciato a piovere ma ancora non si è potuto posizionare la copertura proprio ancora per il vento forte. Ed è questo, come dicevamo in precedenza, ciò che in parte preoccupa. Va detto però sotto l'aspetto climatico che la giornata di domani o almeno il primo pomeriggio di domani preoccupa un po' di meno rispetto al brutto tempo che c'è oggi su Catania.